L'area di via Fratelli Cervi e di via Lecadorna è un'area pubblica, è un'area che deve rimanere gratuita, è un'area verde che deve essere preservata per tutta la cittadinanza e penso che oggi i cittadini abbiano detto a gran voce che non ci deve essere costruito assolutamente niente. Le richieste già contenute in una petizione che ha raccolto oltre 700 firme sono così entrate in consiglio comunale nel corso della seduta aperta. Residenti e cittadini hanno chiesto all'amministrazione comunale di Montevarchi di tornare sui suoi passi in merito alla scelta di concedere ad un privato parte dell'area verde compresa tra via Lecadorna e via Fratelli Cervi. Rimangono ancora tante perplessità, ci è ancora stato detto in faccia che ormai le decisioni sono state prese, che non si potevano coinvolgere più di così i cittadini in particolare anche i residenti dell'area, della zona. Noi continueremo a coinvolgere ancora la cittadinanza. Il progetto dunque andrà avanti ma il sindaco si è comunque detta disponibile a cercare soluzioni che possano venire incontro anche alle esigenze manifestate dai cittadini. Una scelta ben calibrata, legata ad un doppio interesse, quello di individuare un'area di facile accesso con tutti i servizi necessari per individuare una struttura, per riuscire a realizzare una struttura di pronto intervento in caso di necessità legata alla protezione civile. Quindi una responsabilità che il sindaco ha di trovare un'area idonea in caso di emergenza che potesse però essere appunto sostenuta e realizzata a carico di un privato che potrà appunto tramite una tenso struttura removibile che non andrà assolutamente a cementificare la possibilità di creare un servizio in più per la comunità intera. Ovvero una struttura per i bambini al coperto, questo non inficerà assolutamente tutta la libertà di azione nel giardino da parte dei cittadini perché di 7500 metri quadri a disposizione ne verranno coperti solo 1200 e quindi i restanti saranno a disposizione di tutti dove si potrà continuare a giocare a calcio, ad allenarsi o a passeggiare tranquillamente.